Questa è una giornata diversa, chiamata team building, chiamiamola un po' come vogliamo però fatto sta che sono già tre settimane di lavoro dove si fa solo atletica ai pesi quindi variare anche questo fa parte di un momento di divertimento, svago ma anche lavoro perché comunque consiste nello spostare un tot secchi di terra a una distanza di sei metri c'è ovviamente una tecnica, ogni gruppo usa la sua tecnica, l'etica del lavoro, la voglia anche di confrontarsi con gli altri due gruppi fa sì che diventi poi una sorta di gara simpatica poi perché no, smuovendo questa terra poi c'è anche il modo di utilizzare il campo principale perché poi quello che serve al campo che stiamo facendo è proprio smuovere tutte queste montagne di terra che nella normalità vengono fatte con la ruspa e noi le facciamo con i badili e con i secchi allora ragazzi il primo gruppo ha totalizzato la misura totale di un metro e zero quattro ok secondo gruppo ha finito, ha raggiunto la misura di un metro e zero cinque, per il momento sono in vantaggio buon lavoro